Riconoscete questo volto? E' questo? E' questo? Sono i volti dei più crudeli cacciatori d'assassini. Questa è la storia di due bounty killers. Spietati, decisi a tutto. Uomini che al denaro non sputavano sopra. Sì, perché laggiù dove la vita non aveva nessun valore, la morte invece valeva meno. Per qualche dollaro in meno. Spietati, decisi a tutti. 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 Grazie a tutti.